Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, sono LollotoMille e oggi siamo su Non si vende Non si vende Allora Il fumetto Non si vende Non si vende Mattia cammina Vede un Gabby Mattia muore Poi facciamo il funerale E poi io vado a vendicare Mattia e dico Mi dai un autografo? Gabby si Poi tutti camminiamo Poi veniamo Agostino, Gabby, io, Stefano e Riccardo Poi Mattia ferma un contratto E dice mi redicherò LollosaMille Continua Parte 2 Tutti i pantaloni mi ridono Poi io mi metto gli occhiali da solo Da solo, da solo Perché sono sempre da solo E dico Lolli, ciao Poi il re dei pantaloni dice Andate Ok andiamo Poi tutti incontrano Pac-Man Però poi I pantaloni escono dalla tomba E Mattia spacca la porta di Gabby E dice No, la mia porta Che ho speso 20.000 euro Poi Gabby lancia una porzione E Mattia torna a nonare Yeah Però ci sono gli altri fantasmi E ancora Pac-Man però Prende una bacca Mega E diventa gigante Poi se li mangia tutti E muoiono tutti Questo è un fantasma morto Yeah Continua Non ci vede parte 3 Allora Troviamo un fantasma Fidissimo E da un portale Escono i nostri Cloni del passato E noi ci salutiamo tutti Poi Gabby del passato Prende la spada Insieme a Gabby del presente Che prendono la spada E c'è il fantasma Con la pistola Lo attaccano e muore Poi tutti Festeggiano Yeee Presta fine